Diamo un significato a questa giornata? Assolutamente sì, questo per noi è veramente un grande orgoglio, il Comune di Varese è ormai alla tredicesima edizione del Salone dell'Orientamento, avremo questa mattina 1600-1800 studenti della città e anche di qualche scuola fuori, abbiamo 44 stand e cioè tutto ciò che il territorio offre come percorsi di istruzione e di formazione post diploma, abbiamo le università, abbiamo gli ITS, abbiamo le accademie, abbiamo le forze dell'ordine con i loro percorsi di formazione, l'obiettivo è quello di far conoscere ai nostri studenti e alle nostre studentesse tutto ciò che può loro servire per continuare i loro percorsi per il futuro.